La faccia aveva l'ombrono, e pure il poloscio, chi ne beva... Sta tutto scoperto, non entrava. Non trova. Guardi a capire. Don Garlum. Don Garlum! Chi è? Non vincite. Voi non dormite. Ma chi si? Voi sapete chi so. E sapete pure che voglio. Ne avete prese due! E che? Pizze! E' un bel? Don Garlum. Io mi sono sposato cinque anni fa, il 7 aprile del 1949. Tenevo una somma. Volevo aprire una bella pizzeria. E invece no. Ma volete la soddisfazione regalare a Sofia il più bell'anello del quartiere Stella. Del quartiere Stella. Quello stamattina stava al dito di Sofì. E dal dito di Sofì e carote rinda la pasta. E da rinda la pasta e carote rinda pizze! Garlum! Nelle pizze tue! Niente, niente. Ma chi c'ha da essere? Sono affari privati, di famiglia. E? Ma ha perduto la merda! Un povero Cristo! Se tene la nottata chiara chiara anguolo, viene un disgraziato fedente e ti arruina. E mo, chi può pillare il più sonno? Chi può pillare il più sonno? Chi lavora il giorno? Quello lavora tutta la notte! Eh sì, quello fa il notturno, povero Cristo! E stava arrivando. Allora,। Lunami